Ne deriverebbero effetti positivi sul clima di fiducia, sull'attività economica, sulla spesa di interessi. Pur se non risolutivi i dati vincoli e l'eterogeneità nella proprietà del patrimonio immobiliare pubblico e le caratteristiche del portafoglio di partecipazioni dello Stato, i programmi di privatizzazione potranno contribuire ad accelerare la riduzione del debito.